benvenuto a compila quindi va buona sera è ancora il titolo vecchio c'è ancora il titolo vecchio incredibile invece questa sera dobbiamo cambiarlo e metterci buoni così lo scriviamo in diretta buoni propositi per il nuovo anno e poi ci mettiamo il brindisino ci stanno forse non si vede non è un icode evidentemente quindi queste limitazioni ciao valerio mi è arrivato adesso mi faccio un pochino un po più avanti c'è un strano colore un po pallidino colpo di tosse classico come va tutto a posto la sera c'è una musichetta natalizia giusto per che ci aglieta va arrivato anche maurizio ciao maurizio è un po un po scarica questa musica molto natalizia dopo magari la cambiamo allora beh stasera non abbiamo ne ho approfittato diciamo il tema di questa serie funzionale il fatto che non ho una cippa da preparato una cippa a parte avevo troppo da lavorare poi siamo tra le feste e quindi ci sono una serie di di problematiche e quindi come dire non è così ciao elisabetta è la prima volta che mi sembra che ti che ti trovo in chat non è la luce non sono palido aspetta che provo a spegnere qualcosa no è peggio di prima passiamo dal palido al blu niente io tocca rimanere pallido un viso pallido come si suol dire allora questa no volevo fare un po questa live sia per così qualcuno che per chi è abituato a giovedì a assorbirsi i miei spiegoni ed annoiarsi con le con le mie live di programmazione stasera niente programmazione ma era giusto un'occasione così per per fare due due chiacchiere assieme infatti è un peccato che potevo pensare prima al fatto di eventualmente predisporre anche un ho una chat o qualcosa di vabbè di vocale ma fa niente tanto usiamo la chat e quindi e quindi un'occasione per farci gli auguri visto che domani è l'ultimo dell'anno e quindi non farò più live fino all'anno prossimo e vabbè questa è ormai una battuta che si usa con tutto ora eri avatar eh si era un po' bluastro ho visto potrei attivare qualche filtro per presentarmi una di queste volte con delle cose strane c'è chi lo fa quindi e così e tra le altre cose magari parlare un po' di idee proposte per l'anno nuovo visto che ho intenzione di ho un canale twitch e non ho paura di usarlo come si dice con le armi per cui un po' di idee ce le ho però se così qualcuno aveva delle idee migliori da da portare avanti tanto non vedo una persona che aveva delle domande da farmi ma forse non si è ancora ho collegato ho presentato ma me lo aspetto da un momento all'altro il buon buon christian che questa settimana abbiamo visto sul sul gruppo facebook di delfi club italia per chi magari si collega per la prima volta in questo canale porto delle trovate anche qualche video disponibile sul canale porto dei live di programmazione principalmente su su delfi perché trovo che non sia molto trattato mentre di sviluppo front end con javascript di dot net eccetera se ne parla già già parecchio quindi ho iniziato in questo modo e pur utilizzando come dire anche questi linguaggi e queste tecnologie la mia la mia intenzione anche per l'anno nuovo è quella di continuare con questa linea ovvero principalmente continuare a parlare di delfi quindi vedere delle cose su delfi ed eventualmente il mio proposito di imparare twitch vabbè adesso seguire live su delfi probabilmente potrebbe essere una cosa che ti come dire ti ti devasta però usare twitch io te lo consiglio perché io devo dire l'idea di aprire questo canale era totalmente campata per aria devo dire cioè mi è venuta guardando ovviamente altri streamer che ad esempio uno lo seguivo anche ieri sera Fabio Biondi che parla di javascript più abbiamo Kasuken che è Emanuele Bartolesi che parla di dot net più c'è anche Marco Minerva ciao Erics 7800 sembra il nome di una cpu e da lì ho detto proviamo proviamo a fare qualche live e devo dire che è un po' alta questa musica forse e come dire sono rimasto piacevolmente colpito questo l'ho detto più volte anche chiacchierando un po' con altri streamer che poi ho conosciuto dal vivo e che ogni tanto passano anche di qui come io passo da loro molto volentieri sono rimasto colpito da twitch perché io pensavo fosse banalmente proprio una in realtà lo è una piattaforma per il gaming però in realtà ho visto che può essere usato anche in tanti altri modi e in modi molto più vabbè non voglio dire più efficaci perché comunque il gaming io lo guardo quindi per me deve essere 780 ma era occupato ho anche un mio amico che ha fatto una cosa del genere ha un indirizzo email storico che adesso non mi ricordo se è Manu3000 perché chiamandosi Emanuele aveva provato Manu ma era corto e quindi Manu1, Manu2, Manu3 era sempre occupato quindi a un certo punto ha messo 3000 e lo ha beccato quindi da più o meno più di 20 anni ha questo indirizzo email che deve la sua origine a questa cosa qui no dicevo quindi anche il gaming lo seguo però poteva essere usato anche in altri modi ovvero facendo anche delle live su altri argomenti tra cui la programmazione quindi so che ad esempio Fabio sta per partire a gennaio con delle sorte di corsi delle serate con dei quiz quindi la cosa carina di Twitch è che c'è la chat con cui si può chiaramente interagire se si ha un argomento come dire da trattare lo si riesce a trattare più o meno bene adesso io non sono ovviamente da prendere come riferimento perché faccio quello che posso insomma c'è gente brava c'è la possibilità chiaramente di utilizzarlo in maniera divertente quindi divertendosi sia da parte di chi fa ovviamente la diretta sia da parte di chi la fruisce con la chat perché ci sono le emoticon ci sono un po' di effettini ci sono una serie di cose tra l'altro qui ad esempio se fate potete usare anche i vostri punti canale i miei punti canale sono i bug fix quindi man mano che assistete alle live e scrivete in chat acquisite praticamente le interazioni vi danno questi punti canale che potete spendere lanciando dei suoni al link che vi viene mostrato qui che Streamlabs ha messo il cloud bot su Streamlabs e quindi ci sono un po' di elementi con cui interagire divertenti però oltre a divertirsi si impara anche qualcosa sia da parte mia che magari pensando di parlare di un certo argomento mi metto lì e sperimento e ci si ragiona sopra sia da parte di chi come dire assiste che magari dai suggerimenti qualcuno impara qualcuno suggerisce quindi porta la sua conoscenza nome c'è infatti qualche nome da darmi per quanto riguarda la programmazione sarei molto felice così li seguo allora sul mio canale cioè andando proprio sul mio canale dove ci sono le informazioni e questo vale per tutti c'è di solito in basso una serie di streamer suggeriti io ho aggiunto tutti quelli che al momento parlano di programmazione o hanno in qualche modo a che fare con la programmazione anche perché io seguo qualcuno che fa gaming però che ogni tanto intrattiene cioè la cosa bella è che quando io non vado live guardo cose che magari non sono proprio la programmazione però niente ASMR che so già che state pensando a questo e ci sono veramente della gente molto brava a creare come dire le proprie delle community di persone che sono affezionate che quindi scrivendo tutti nella chat e trovandosi in chat con questa persona che intrattiene come dire alla fine si viene a formare una sorta di gruppo quindi di community appunto che ruota attorno allo streamer ma di fatto è più allargata e quindi come dire mi ha piacevolmente sorpreso da questo punto di vista Twitch che tra l'altro ha degli strumenti ad esempio all'inizio ti invita a fare molte ore di live io ho iniziato a maggio di quest'anno così ripercorriamo un po' la storia dell'anno mi incenso un pochino a maggio come mi sembra come sperimentazione quindi attorno aprile e maggio a fare qualche live di prova sono stato spesso in live perché Twitch ti dà un po' di obiettivi cioè praticamente riesce in un certo modo Twitch a farti come dire un come potremmo dire una sorta di gaming anche legato al raggiungimento di obiettivi ad esempio fai queste live raggiungi una persona due persone contemporaneamente connesse acquisisci tot follower cioè ti dà dei traguardi sono tutti fattibili però sono sempre molto graduali cioè l'obiettivo anche della piattaforma è farti abituare cioè farti crescere in maniera organica cioè io sono ovviamente piccolissimo ne ho pochissimo e quindi però sì esatto ti dà delle sfide per continuare in modo che uno più o meno cerchi di raggiungere se non altro lo stato secco di affiliato che è quello che mi interessava molto non per una questione di abbonamenti di monetizzazione perché al momento non ci ho fatto nessun investimento e quindi per il momento almeno lo stato attuale non saprei neanche bene come orientarla e quindi chiaramente non è che cioè se uno dice mi abbono fa anche Prime degli abbonamenti gratuiti però al momento non è una cosa che sto incentivando perché cerco di fare tutto sia nel tempo libero sia come dire per passione personale quindi non vorrei che magari gente come dire pagasse per vedere cose anche perché è molto utile soprattutto per me e quindi lo stato di affiliato diciamo ti dai punti canale cioè ti dà un pochino di strumenti di interazione in più quindi mi interessava mi interessava per quello e quindi da maggio e così ne ho fatte alcune poi ho cercato di, l'ho ridotto un po' ma ho cercato di farla comunque tutte le settimane anche se come dire non sempre è possibile perché lavorando e poi avendo magari qualche argomento che è un po' più complesso chiaramente bisogna preparare qualcosina però è molto meno impegnativo rispetto al preparare quella che può essere una presentazione per una conferenza o qualcosa, cioè qualcosa di più ovviamente serio e impegnativo su cui magari anche lì non c'è monetizzazione però insomma c'è un evento e quindi devi fare bella figura e soprattutto quando hai un pubblico almeno dei delfisti molto esigente perché c'è gente molto preparata che lo utilizza da tanti anni diventa come dire impegnativo farlo quindi una delle idee che avevo era aprire un canale youtube ma poi ho lasciato stare perché già ho visto che iniziavo a elucubrare su eventuali sigle cose di questo tipo ho detto proviamo su un canale twitch poi le cose che più o meno sappiamo facciamo live coding se non le sappiamo la chiamiamo discovery e facciamo finta che ovviamente non è una finta ma è vero di non sapere una cippa e quindi di provare le cose in diretta in modo da far capire che non siamo ignoranti sull'argomento ma effettivamente siamo ignoranti a tutto tondo e quindi a maggio è interessante il fatto dei traguardi sì comunque ho apprezzato molto anche per quello più ti fa vedere una serie di filmati di streamer in questo caso in inglese però famosi che danno proprio suggerimenti su come trattare le persone che eventualmente si collegano su come accogliere nel canale qual è la prassi da fare ad esempio non andare in un canale in una chat e dire sto andando in live come se uno dovesse rubare non è capitato di farlo un paio di volte ma non volontariamente però c'è come dire tutta un'etichetta di una serie di regole non scritte che loro ti suggeriscono di seguire ma se qualcuno è nuovo della piattaforma e gira un po' cercando magari ad esempio a me piace molto il retro gaming quindi vedere un po' di giochi vecchi ma anche giochi nuovi se capitate su un canale interagite vedrete che comunque le persone che sono lì benvenuto se li seguite vi fanno ovviamente grazie per il follow grazie per l'abbonamento se scambiano battute cioè diciamo che c'è una buona una buona accoglienza secondo me è dato anche il periodo un po' particolare visto che siamo facciamo una discovery su iorm oh giusto iniziamo con le proposte e questa mi sembra un'ottima proposta per due motivi prima di tutto perché prima o poi vorrei sperimentare come tenere a live qualcuno utilizzando un paio di strumentini quindi farla come dire in doppio e avere quindi l'occasione magari qualcuno che spiega non so i primi passi per utilizzare una libreria perché la conosce o perché come in questo caso nel caso perché ti conosco Maurizio quindi vedere come si utilizza come si parte utilizzare una libreria che hai scritto quindi potrebbe essere molto interessante perché un conto è fare una magari un webinar una sessione un seminario su spiegando tutto un conto è prendere uno che si mette lì e dice dunque iniziamo a utilizzarla che prova non dico a indovinare però prova a utilizzarla e quindi si impara a utilizzarla insieme non vedendo una spiegazione ma vedendo anche qualcuno che prova a metterla in piedi quindi inizia a porsi dei dubbi quindi questa è una live che farei molto volentieri quindi tecnicamente adesso mi metterò a vedere come è possibile farla perché sarebbe molto interessante proprio partendo da zero tra l'altro una live o due live perché qui cioè in ogni caso non è che c'è da esaurire tutto in una volta in una volta ho fatto tre live su ad esempio delfmvc framework e quindi però c'è da dire che lì se sperimento da solo allora c'era anche Daniele che dava una mano il creatore della libreria e quindi a quel punto magari sblocca la situazione quindi è sempre bene avere anche il creatore perché sennò diventa chiaramente una cosa noiosa perché uno guarda uno che smanetta però magari se invece c'è anche qualcuno che dà le imbeccate diventa una prova e diventa anche però un ti spiego ti sblocco e quindi ho fatto tre live perché effettivamente il framework era era molto vasto e quindi c'è molta cosa da come dire da da vedere e da affrontare quindi assieme Geo Valerio comunque mi è piaciuta questa forma di contatto mi ha permesso di entrare in contatto con te con altri del gruppo in modo più diretto sì poi chiaramente qui sotto c'è sempre lo stemmino del del mitico Delfi Club Italia che è un gruppo Facebook per diciamo programmatori Delfi ma anche non quindi per chiunque poi voglia trattare argomenti di programmazione su Facebook quindi se lo cercate se sviluppate in Delfi o sviluppate anche in altri linguaggi ma siete curiosi molto piacere lì si dibatte ogni tanto di problematiche legate allo sviluppo quindi sia per problemi per porre dei problemi farsi dare una mano oppure segnalare magari delle news interessanti o scambiare due chiacchiere è il luogo il luogo perfetto direi secondo me infatti la diretta 2 sarebbe carina e anche più dinamica sì poi c'è anche quel discorso lì che chiaramente per chi guarda magari è anche un po' più interattiva però come dire cioè c'è un po' tutto cioè c'è il fatto di fare una cosa che si guarda un po' meglio e che si impara anche qualcosina io quando le vedo fatte comunque minimo da due persone e rispetto a un altro mezzo come può essere il podcast che è un'altra cosa che devo assolutamente riprendere e rimettere in moto però ho intenzione di anche quello di riavviarlo però con una formula un po' diversa tipo più legata a news o argomenti molto specifici mirati su cui non so dire un paio di cose quindi farlo più corto e farlo più frequente perché non è un non è uno strumento che voglio abbandonare assolutamente però ecco dove lì si è parlato a voce con audio di alcune cose queste live invece potrebbero essere molto più più utili perché si vede qualcosa e c'è tutto Maurizio è bravissimo a spiegare il live banding con Defi allora le slide di Maurizio su git su live banding sono roba da premio Oscar perché tra le animazioni io tutte le volte che le vedo dico se non si capisce con quelle non si può non si può capire perché c'è la freccia che si sposta c'è tutto il dinamismo e quindi è stato illuminato sì perché molto spesso tra l'altro sono un po' tecnologie che si prendono molto ad alto livello e così invece il fatto di partire proprio da dai dettagli chiaramente sul live banding diviso in due parti perché ovviamente c'è un sacco di roba da affrontare però ho visto vabbè è vero quella su git poi era una cosa cioè uno più che altro mentre guarda pensa anche a quanto tempo è stato dedicato però ci sta perché sono tutte sia questo argomento il live banding anche git e altre cose hanno state affrontate proprio dalle basi e chiaramente qualcuno potrebbe dire ma forse si parte troppo dalle basi ma in realtà una volta che conosci quelle cioè dopo tu sei molto più fluido a utilizzare delle funzionalità di più alto livello perché poi vedi che è reiterarsi sempre della stessa cosa anche su git cioè si parte molto dall'operatività ma conoscere come è fatto nei meandri e sapere alcuni dettagli è molto utile perché dopo le altre operazioni vengono vengono così cioè sai che spostare un branch spostare un etichetta cioè usare le metafore e quindi da lì devo dire che sono alcune tecniche anche queste live sono utili anche a me che faccio anche formazione quindi occupandomi di formazione cerco sempre un po' quelle metafore che mi consentono un pochino di non saprei come dire di di spiegare meglio certi concetti in modo che la metafora ti faccia scattare la lampadina e quindi una volta che hai capito come stanno le cose vai via diretto perché la cosa importante è rendersi come si dice confidenti su una tecnologia cioè imparare quello che serve per poter andare tranquilli cioè magari uno non conosce tutto fa poche cose ma quelle cose non ha dubbi sul funzionamento perché ha capito quello che c'è quello che c'è dietro se invece si assemblano cose un pochino già fatte poi ovviamente ognuno ha il suo approccio dipende anche un po' dalle tempistiche da quello che uno deve fare cioè ci mancherebbe però quindi quello sicuramente si farà perché è molto interessante un'altra live che si dovrà prima o poi schedulare sarà anche quella di cui si parlava con Paolo Paolo Rossi che non so se magari è collegato o farà un giro o meno più che altro perché se ne ha parlato con lui di demistificazione tra virgolette di Delphi cioè una live dedicata alla comparazione di Delphi con altre tecnologie e al tentativo di analizzare come mai se se uno sente parlare ad esempio di Flutter e il linguaggio Dart che oltre a essere comunque nato anni fa cioè non è così celebre utilizzato rispetto ad altri dice però vabbè ci do un'occhiata se sente parlare di Delphi va a vedere robe tipo il T.O.B. Index o delle cose che non cioè va a vedere quanto è utilizzata ancora nonostante sia o meglio la persona pensa che sia una tecnologia obsoleta cioè che siamo fermi a 95 cioè come mai verso come dire il nostro il nostro caro Delphi ci sia annetto con tutti i suoi pregi e i suoi difetti un da parte di sviluppatori quindi non di persone che non so uno fa il macellaio e dice ah Delphi si l'ho fatto a scuola ma poi faccio il macellaio cioè gente che studia linguaggi di programmazione che impara che impara comunque come dire dei linguaggi nuovi e quindi cioè se gli dici guarda che esiste una versione aggiornata non è che uno dice ah non lo sapevo vado a vedere ma cioè ti ride un po' in faccia e quindi uno dice ma scusa ma cioè perché sei contento di essere rimasto indietro riguarda quello che sai di una tecnologia che tra l'altro potrebbe esserti utile cioè non lo so io non lo so sembra un po' una questione di boh di principio questa è una cosa che un mistero che penso non troverà mai risposta però è quello che si cerca di fare o meglio che io quest'anno ho cercato di fare e cercherò di fare anche nell'anno prossimo è un po' appunto soprattutto con con quella live demistificare un pochino queste cose cioè dire ok ci sono queste limitazioni ci sono questi vantaggi però a volte cioè come dire si insegue ho visto dei wow esplodere in una live dove qualcuno faceva come dire con con flatta un'applicazione c'era un menu cliccavi un pulsante diceva ciao o poi sbagliandosi la lanciava sul desktop eh ho sbagliato e prende sul desktop ma vi fa vedere che funziona anche col desktop cioè questa roba in delfici c'era dieci anni fa quindi cioè perché quello ha tutto quest'hype mentre c'è una cosa che sicuramente sarà da analizzare questa live si propone un po' di vedere un po' tutte queste cose aspetta che prendo un po' di chat se la fai inviterò i colleghi a seguirla perché hai colleghi che lavorano però colleghi che non lavorano con delfi immagino e quindi facebook fb è facebook o sono sempre per imparare dalle basi io con fb identifico facebook ma forse non è facebook quello che si dalle basi è sempre meglio quindi a volte magari richiede un sacco di tempo però io sono ad esempio un amante di quei libri della serie benvenuto nel fantastico mondo cioè leggo anche la prefazione leggo tutto perché sono di quella scuola cioè penso che i corsi i video abbiano il loro senso i tutorial però infatti alcuni dei libri che ho apprezzati recentemente sono uno su cui ho fatto anche revisione tecnica quindi mi hanno coinvolto come revisore tecnico e che è quello di adesso magari trovo un è un continuo dover dimostrare quindi magari ecco su questo ci si può fare una live su qualche suggerimento su libri firebird no non penso che sia firebird è un continuo dover dimostrare sembra che gli altri linguaggi possono fare tutto sì beh alcuni allora alcuni linguaggi sì cioè perché poi al giorno d'oggi non è che ci siano particolari limitazioni però insomma come dire anche delfi fa parte di questi quindi non è che poi cioè l'obiettivo non è ovviamente denigrare gli altri linguaggi anche perché io sviluppo in .net apprezzo un sacco se sharp do una mano anche se non lo uso e lo detesto un po' visualbasic.net perché per me è troppo verboso però immaginavo che fosse facebook ah perché si parlava prima del gruppo del film club sì cioè si è scelto di farlo su facebook perché comunque è un luogo abbastanza frequentato da come dire però non lo sopporto anch'io perché a parte condividere ogni tanto qualcosina lo sto usando molto molto meno dal punto di vista di condivisione anche perché appena esprime un parere un commento su qualcosa soprattutto in questo periodo ti saltano al collo e quindi infatti uno dei motivi per cui mi piace un sacco twitch è anche un po' per questo cioè io seguo anche dei canali mi viene in mente ad esempio il canale di uno psicologo che si chiama Marco Crepaldi un ragazzo comunque abbastanza giovane che è un po' contestato su instagram perché comunque parla di tematiche legate al genere però come dire lo trovo un po' alternativo rispetto alla massa cioè ha dei punti di vista interessanti a volte si becca delle shitstorm cosa stavo dicendo quindi anche lì si parla di argomenti un po' delicati il fatto di poter discutere secondo me è sempre sacrosanto perché molti dei pareri cioè racconto questo aneddoto io ho ritrovato un tema mio delle elementari che aveva un titolo che già a leggione mi faceva ridere perché me lo sono riletto ho letto cosa ho scritto perché c'era scritto se fossi nato donna ecco non entro nei dettagli un po' perché mi vergogno ma all'interno c'era una quantità di frasi che la misoginia praticamente mi fa un baffo quindi ero elementare non capivo niente però mi ha fatto pensare su diciamo per il mio modo di ragionare ad oggi come le come dire come io sia cambiato e questo vuol dire che ho incontrato probabilmente anche nella mia vita tra colleghi soci amici eccetera delle persone che ovviamente mi hanno come dire fatto cambiare opinione quindi la discussione al fine cioè secondo me è fondamentale importante peccato che ad esempio su facebook non si possa più fare perché di qualunque cosa parli anche se usi come dire tutte le precauzioni possibili ti viene azzannato perché sotto ti scrivono delle bestialità oppure si buttano lì degli insulti persone che neanche conosci anche in baccheche di persone che conosci cioè io scrivo magari un commento sul post di qualcuno che conosco mettiamo anche che sia c'è l'aggravante che sia una ragazza e che magari il commento vada come dire a dargli un po' cioè magari dirgli guarda che forse non hai proprio ragione sotto arrivano i galletti che ti ammazzano che dicono no perché è giusto lascia stare eccetera che uno è polemico eccetera cioè non si riesce a parlare praticamente di niente è lo sfogatoio cioè ormai è diventato secondo me lo sfogatoio quindi sono poche osi felici da su twitch come dire anche in chat ci sono i moderatori ci sono chi gestisce il canale l'impostazione comunque di solito è si può discutere se sgarri prendi un calcio e vai fuori che non vuol dire che ci sia della cattiveria ma vuol dire che ti devi comportare in maniera come dire non dico educata perché a volte si usano magari ci si prende in giro ecco se uno prende in giro magari ci dà il beneficio del dubbio a volte il tono non si capisce non è che sia così rigidi però ecco cioè se stiamo magari giocando un gaming si stanno facendo battute arriva uno ci tira una bestemmia c'è gente che bestemmia anche durante le live perché è come dire comunque un sito di gaming gente che gioca scappa e quindi il sito non è così rigido però ecco sono le cose gratuite il prendere in giro altri l'essere poco inclusivi di solito si ha vita breve si viene bannati il che per me è il top perché secondo me a me piace l'ambiente accogliente che però sia accogliente verso chi lo è con gli altri e c'è la reciprocità se uno come per dire un termine vuole farlo stronzo allora a questo punto secondo me ci sono altri posti dove può andare ad esempio su facebook che lì quanto pare è la perché il fatto che il commento venga letto da tanti pone un po' psicologicamente nelle condizioni sempre di cercare di non aver torto per non fare la figuraccia quando delle volte si discute io ho discusso per dei film per delle cose con argomenti anche futili cioè se non riesci proprio a parlare di niente secondo me è veramente una cosa inutile quindi si le ho in da tastiera però a volte al di là dell'aggressività è anche un po' l'andare off topic cioè ecco in questo caso poi è vero su Twitch si gioca quindi non ha neanche magari molto senso però ci sono dei canali mi viene in mente c'è però podcast ci sono anche canali gestiti ad esempio da qualche sera fa seguivo un canale che in live c'è una ragazza che è trans che parla di questi argomenti quindi c'è c'è gente che ha dei buoni ha delle cose da dire ed è molto capace quindi è anche formativo io penso che questa formula di là che sia Twitch o un altro strumento analogo pian pianino soppianterà la questione della televisione perché le persone che parlano di un argomento sono esperte ad esempio stasera ho visto che c'è una live anche di Entropy for Life che è un altro è un divulgatore scientifico che ha un canale youtube l'ho visto anche qui cioè hanno la loro affidabilità e tu li segui perché come dire non sono lì per ingannarti non sono lì per cioè ci mettono la faccia mentre a volte ci sono redazioni di giornali che sono cioè magari pagano poco gli articolisti un euro questi prendono degli articoli falsi li traducono cioè magari recuperano una foto da Instagram di un profilo senza chiedere il permesso ci schiaffano sotto riproduzione riservata cioè la ciliegina sulla torta cioè la qualità della della carta stampata inteso come giornalisti intermediari cioè leggo veramente degli editoriali di persone che secondo me sono persone giovani che però dentro sono già stravecchie cioè sono vecchie dentro cioè c'è un modo bisogna cambiare totalmente secondo me il modo di chiaro che se uno non ha filtri e si pone in prima persona e magari ci campa anche sopra ovviamente avrà tutto un interesse come persona di continuare a rimanere il più possibile integerrimo soprattutto se se fa divulgazione ecco se fa l'influencer e altre cose c'è tutta un'altra dinamica si è visto dal servizio dal servizio anche ci ha fatto un servizio anche le iene quindi c'era influencer che accettavano di vendere un prodotto anche se per farlo ovviamente era inventato ma si uccidevano praticamente gli ultimi cuccioli gli ultimi panda rimasti una cosa del genere e hanno detto si si non ci sono problemi quindi come dire ci sono anche ci sono anche questi no quindi cioè lo strumento mi piace un sacco quindi secondo me sarebbe bello che chiunque abbia abbia qualcosa come dire da da proporre un argomento che gli interessa che parliamo di programmazione ma non c'è solo la programmazione perché c'è gente che disegna gente che gioca gente che che programma gente che suona ho visto infatti un po' di volte che voglio parlarne con una persona che conosco che è un bravo intrattenitore e anche musicista che secondo me se apri su un canale potrebbe essere perché comunque essendo molti costretti a rimanere chiusi in casa per vari lockdown ci sono stati e adesso questo dilagare del contagio cioè avere comunque una community qualcuno che ti come dire ti fa in un certo senso compagnia per molti è un il nostro caso non è il nostro caso perché se non si fa compagnia con la programmazione è un masochista quindi per cui non saprei cosa suggerirti Elisabetta per il canale perché quando vedo su LinkedIn hai preso hai fatto corsi su qualsiasi argomento se è talmente eclettica infatti io mi chiedo ma vabbè la specializzazione è la SEO di cui io so non so nulla nel senso che avevo iniziato a come dire ad approfondirla poi ho detto boh qui o facciamo i siti o facciamo la SEO perché non riusciamo a rimanere allineati sulla programmazione e anche su questa cosa qui per cui ho detto boh occupiamoci della cosa tecnica e seguiamo le indicazioni di un SEO e il SEO li lasciamo fare il loro mestiere tutt'al più ci facciamo dire come ad esempio ci sono quelli che fanno le UI e poi quelli che fanno la user experience anche in quel caso se c'è bisogno di un esperto user experience non sono io e quello mi affiderei a un professionista quindi però c'è infatti talmente tanti approfondimenti sia sulla programmazione che faccio fatica a inquadrare a poter stipulare di qualsiasi cosa quindi questo è anche un vantaggio no tornando al nostro discorso a proposito per l'anno nuovo che è poi l'argomento serale poi non vi tedierò troppo a lungo faremo poi una retta di live non stiamo poi qui tantissimo anche perché questa stasera è una live noiosa essendo che non c'è nulla di tecnico da di cui parlare se no sarebbe ancora più sarebbe ancora più noioso ah tra l'altro mi sono dimenticato vediamo se non è però collegato però poi dovrò fornire la prova quindi avevo promesso che lo facevo vedere mi è stato regalato vediamo se riesco a farlo vedere alla cam un nuovo tappetino del mouse che cavolo c'è il filtro c'è il filtro che è troppo potente tappetino del mouse che raffigura la mia mascotte ovvero il mio gatto che vediamo se riesco in una sua posizione tipicamente plastica dentro un cartone che dentro un cartone di Amazon che è esattamente il posto in cui si trova in questo momento perché oggi ne è arrivato uno e sta dormendo lì dentro quindi finché ci dorme e non ci fa la pipì quindi ovviamente senza il suo supporto questo canale non avrebbe potuto anche perché la mia la mia schermata di offline è lui che dorme quindi grazie ai consigli la trasparenza e la passione sono fondamentali sì quello sì cioè per qui sopra praticamente quando uno ha la passione cioè se anche io non so nulla di un argomento se c'è uno che è bravo a parlarne ti attacchi subito anche perché se entri e chiedi se uno ha passione ti cioè gli piace ovviamente avere ospiti qualcuno che chiede che che approfondisce quindi da lì poi si instaura infatti è molto pericoloso perché io sono uno che si fa influenzare un sacco da da idee di altri che iniziano conosco ad esempio seguo uno su Instagram che parla di criptovalute e quando lo sento cerco di non di non ascoltarlo perché se mi appassiona roba del genere dopo diventa un a me piaceva parlare di API non gli insetti vabbè vedi che ho già detto API io avrei detto API anche se erano gli insetti perché sono sì è il mio gatto è il mio gatto che c'è una canzone super natalizia è il mio gatto che che qua che ce la dorme tipicamente mentre io faccio le live lui dorme di fianco so che a volte russa pure e quindi però mi hanno detto fai vedere tieni il gatto oppure una clip dove dove io sto spiegando una cosa perché una volta avevo un campo più allargato nella camera e si vedeva lui sul divano e c'è una volta dove c'è questa scena che io sto spiegando una cosa tecnica lui si sveglia cioè si vede nella live che si sveglia di fianco e mi guarda come puoi dire ma che diavolo di che cosa stai parlando e poi se ne va via scocciato e si stira poi se ne va e quindi o non so con un'espressione se un gatto può avere un'espressione della serie ma sei ancora lì che stai parlando di questa roba e quindi a volte si tende a umanizzare più del dovuto ma questo è veramente è veramente particolare a volte mi fa delle sorprese che quindi ringrazio la sorella che mi ha regalato questo tappetino questo tappetino del mouse e quindi sì quando arrivano i pacchi è un disastro io glielo butto per terra perché faccio appena in tempo e lui ci si lancia dentro e tra un ghiate poi dopo un po' lo si butta via perché sentimenti va per tutta la stanza e quindi è ingestibile quindi buoni propositi per il nuovo anno c'è quello che dicevamo prima provare a fare delle live in in duetto che potrebbe essere o per vedere una libreria e ne avremmo e ne avremmo tante da vedere perché ad esempio anche sul sul argomento API mi piacerebbe vedere come fare dei client mobile per diverse API di vario tipo a mio parere mi approfitto subito dei commenti perché magari la grafica in 3D confermò che merita uno spazio di divulgazione questo senza altro mi trovi perfettamente d'accordo perché come dire a me interesserebbe molto approfondirla però quello che io non riesco cioè su cui sono scarso a netto della matematica che avevo 4 quindi è un po' come dire la gestione del 3D in sé cioè come utilizzare le figure come utilizzare vedo che c'è gente ad esempio che riproduce degli effetti tipo labirinti oppure di campo stellare le stelle che ti vengono incontro però c'è come gestire questi oggetti nel piano come applicargli delle ombre cioè tutta la teoria che sta dietro che non riguarda proprio come dire solo Firemonkey in quanto tale ma riguarda il 3D in generale poi nel caso di Firemonkey si è molto performante c'è anche una cosa che sarebbe interessante vedere quel game engine per Delphi che si chiama Castle Game Engine mi sembra se non scordo un pezzo che è un engine per costruire dei giochi con Delphi che sarebbe interessante anche lì approfondire perché sì però lì mi manca proprio un po' la teoria sia sul 3D sia sulle cose che più che sull'utilizzo dei componenti quindi sul 2D direi che problemi non ce ne sono però anche lì se hai una certa esperienza potremmo fare tranquillamente una bella live in in accoppiata quindi se prende come dire piede il format sarebbe bello uno dei propositi sarebbe bello veramente prendere un po' il giro cioè magari avere un po' delle serate fisse e che quel lavoro diventa sempre un po' cioè c'è chi ha scelto questo come mezzo aggiuntivo per fare formazione quindi si organizza e ad esempio fa delle live anche pomeridiane io purtroppo questo non lo posso fare lo devo sempre tenere come come hobby perché comunque col lavoro eccetera ad esempio di giorno non riesco praticamente mai o comunque non riuscirei a farne in modo continuativo e quindi sarà difficile come dire creare degli appuntamenti fissi anche se poi in realtà dipende sempre un po' anche a volte può essere meglio variare a volte è meglio avere fisso dipende un po' anche delle esigenze però sarebbe bello riuscire a mettere giù delle scalette dove magari si fanno un po' di attività eterogenee come vedere l'uso di una libreria di librerie ne avremo un sacco di cui parlare perché ad esempio io ho fatto un po' di come si dice discovery per provare ad inaugurare il filone su delfinvc framework però ci sarebbero ad esempio librerie come mars il frame stand che secondo me su file sono assolutamente imprescindibili oppure anche whirl oppure librerie delfineon per jason quindi whirl per il rest ne avremo ne avremo un sacco spring for delfi anche quella è un'altra libreria con le sue collection i suoi pattern quindi dentro ci sarebbero un sacco di cosina da vedere per chiaramente o in due o con l'affiancamento di un esperto però l'intenzione è quella di provare a vederle tutte adesso farò qualche prova perché prima ovviamente bisogna sperimentare anche perché dovremmo esserci in due preferibilmente due teste più un come dire uno schermo e provare a vedere la cosa comunque ci proviamo questo come propositi mi metto del ci proviamo chiaramente se funziona potrebbe diventare un appuntamento fisso un'altra cosa che mi piacerebbe fare per l'anno nuovo e sto valutando ancora come farlo perché in questi giorni ho ricevuto un contatto dove mi hanno chiesto se sono disponibile o meno mi hanno proposto Python for Delphi sì Valerio anche quello siccome ho approfondito l'anno scorso Python anche tu hai scritto stavo per leggere Python ma quello è di Harry Potter però come come l'hai scritto mi ha fatto venire in mente subito Harry Potter quindi anche quello Python l'ho un po' studiato qualcosa ci ho fatto e quindi un'altra un'altra idea che avevo è infatti questa cioè vedere un po' di linguaggi anche nuovi ad esempio sarebbe interessantissimo vedere come fare un frontend magari in javascript ma non per sapere tutto di javascript ma per vedere come accopiarlo magari a un server fatto in Delphi quindi c'è qualcosa che faccia vedere altri linguaggi però sempre da utilizzare in combinazione con Delphi oppure con qualsiasi altro linguaggio perché a quel punto il linguaggio è come dire può essere quello che vogliamo dal punto di vista del server però chiaramente l'idea è quello di utilizzarlo magari in combinazione con Delphi da parte server e quindi anche Python sarebbe interessante perché avendolo un po' approfondito bisognerebbe vedere un po' la la sua parte di integrazione con Delphi che io trovo molto interessante sia perché Python a livello di interfaccia diventa un po' ostico costruirla quindi un ambiente come Delphi che si integra perfettamente con un linguaggio dinamico con Python come Python è proprio la manna perché ci sono delle interfacce che si fanno velocemente che interagiscono con un linguaggio che ha tante di quelle librerie ma tante ma talmente tante che oppure rendere dinamico una parte del programma il multitrading la parallel library è una cosa che ok ho letto la parola Python mi nascondo sotto le coperte perché ti piace o perché non ti piace di solito piace io devo dire l'ho apprezzato molto avendolo approfondito perché ero convinto magari di utilizzare il linguaggio più più semplice per come dire per chi si avvicina mentre Python è ancora più come dire da questo punto di vista secondo me per uno che impara a programmare con Python lo fa molto meglio perché non scrivi veramente neanche un'istruzione che non faccia qualcosa è in vabbè ma infatti mi immaginiamo se uno scrive da cellulare non ti dico che roba scrivo quindi infatti di solito anche su Twitch se seguo una live non scrivo da cellulare perché parte della roba comunque abbiamo capito chi doveva capire quindi io ho capito sicuro quindi anzi così se alla fine cioè se si triggerà se vedi qualcuno si dice basta perché non ci si può triggerare qui no è un argomento quindi molto interessante però ecco lì sarebbe bello buttarlo giù però vedendo prima un po' di Python quindi che le cose che può fare non so le liste i set vedere un po' cioè come funziona il linguaggio in modo che non dico che uno diventi esperto di Python però capisca più o meno che cosa ci si può fare e poi agganciarlo a Delphi anche il multitrading parallel library stavo dicendo rispondendo lì a Maurizio era uno degli argomenti che avrei già voluto vedere l'unico discorso è che quello che che faccio fatica un po' a trovare sono degli esempi carini da usare dimostrativi che non siano un ti faccio un thread ti faccio vedere come incrementa che se faccio più uno col multitrading non gestisco gli accessi o creo qualche task cioè avere un qualcosa che visivamente produca un risultato tangibile paradossalmente siamo riusciti a fare qualcosa di interessante sia per il custom record che per il RTTI cioè mi piace sempre avere comunque un aspetto molto pratico da vedere su un applicativo che però andrebbe costruito perché ovviamente non possiamo vedere progetti dei clienti che però faccia capire mi do malata quando c'è Python sono bocciata quattro volte l'esame le cose semplici no non è semplice cioè non dico che sia semplice nel senso che se poi lo si usa in un certo modo ci sono alcune cose che devono che le devi conoscere devi sapere come si usano quali sono le limitazioni però ha una cura cioè diciamo che partendo da uno script se devi manipolare qualche dato siccome un linguaggio dinamico e infrastruttura zero un po' come javascript però ecco javascript solo che introduci le funzioni e vai a vedere un po' la dichiarazione delle variabili a meno che non usi proprio una versione modernissima del linguaggio trovi quegli operatori spread operator trovi cioè il linguaggio ha anche una serie di particolarità che proprio cioè si fanno magari fatica a capire per uno che non programma per uno che cioè per uno che non programma e vede python e vuole non so prendere dentro qualche valore fare degli ordinamenti dei filtri qualcosina riesce a farlo perché non ha linguaggio praticamente non ha infrastruttura cioè non devi dichiarare se lo fai con Delphi o con C Sharp e vuoi mettere qualcosa in una struttura la struttura la devi creare devi creare tipi devi creare dei record delle classi allora ecco che si parla già di programmazione oggetti cioè ci devi chiaramente ti offre una cosa molto più rigida rispetto a quello che hai in python però dopo anche python ovviamente si si complica il passaggio di parametri con le keyword fatto con il dizionario le tuple ci sono un po' di di particolarità che ovviamente devono essere approfondite in maniera in maniera specifica altrimenti strano che questo ti rimanga si vede che è proprio un'avversione come e no quindi interfacciarlo con Delphi sarebbe interessante allora pare il programma in library sarebbe un'altra cosa un'altra cosa che dicevo mi piacerebbe fare e che forse riesco a fare in maniera alternativa con dei webinar su un su un canale che forse ha un po' più di visibilità sarebbe Delphi da zero cioè riuscire a l'idea era prendere spunto tipo un un libro che è uscito un po' di tempo fa che si chiamava visual basics spiegato a mia nonna ecco fare un Delphi spiegato a mia nonna cioè secondo me Delphi ha un potenziale particolare per essere usato come linguaggio da persone che magari non sono non hanno dimestichezza a meno inizialmente con la programmazione sempre perché essendo basato sul Pascale Pascale è molto propedeutico e quindi partendo piano piano si riescono comunque a ottenere gli applicativi che hanno comunque una parte visuale non sono delle brutte applicazioni console o anche una parte mobile senza scrivere troppo codice concentrandosi perché si fa presto a dire facciamo le start up facciamo il minimum come lo chiamano viable product per gli investitori però appunto avere un linguaggio che con un sorgente singolo in un linguaggio semplice con delle librerie già pronte ti fa fare applicazioni desktop e mobile per diverse piattaforme con un unico progetto cioè non è una cosa cioè è un secondo me è una cosa che deve venire fuori deve essere una una cosa di cui si parla e quindi poteva essere interessante fare una serie di live ovviamente non non dedicate a chi conosce Delphi a menadito ma cioè chi proprio non lo conosce con l'idea magari di di farle proprio come stile lezione frontale quindi sfruttare la chat per delle domande e a quel punto ovviamente siccome io poi i video li replico anche su youtube avere un qualcosa da fornire come per dire vuoi capire di cosa si tratta e sulle potenzialità c'è la prima puntata vedi se ti piace dopodiché c'è una sorta di corso completo da accesso ai dati ovviamente senza entrare troppo nel dettaglio di ogni cosa ma vedendo più o meno tutto quello che c'è da sapere come si costruiscono almeno le applicazioni più tipiche o si fanno le cose più generalmente più tradizionali quindi giusto per capire cos'è e cosa può fare quindi e lì sarebbe interessante essendo che non c'è limite a fare una serie di appuntamenti ieri scherzando in ufficio prendevamo in giro un collega che non rispetta nessuna identatura dicendo che non potrebbe lavorare con Python è vero la cosa bella è che io mi sono trovato in condizioni di dover fare una struttura vuota e siccome lì non c'è una parola chiave neanche per iniziare un blocco perché siamo in Pascal abbiamo il begin and end in C sharp in javascript abbiamo le graffe cioè lì non c'è poi ho imparato che c'è l'istruzione no op cioè se fai un if e vai a capo e non vuoi fare nulla ci devi mettere comunque qualcosa perché il blocco il blocco lo hai creato e quindi non puoi lasciarlo vuoto perché lui si aspetta che la riga sotto quando scrivi lì metti un due punti e vai a capo lui tiene in denta in automatico e lì ci devi scrivere qualcosa quindi se non vuoi scrivere nulla non puoi fare un blocco vuoto ci metti questo no op che sta per dire non faccio nulla ma tengo il posto però è impressionante perché ogni riga fa materialmente qualcosa abbiamo importato un csv abbiamo fatto una serie di cose però c'era leggo il csv passo ordino scrivo stampo cioè non c'era neanche una parte che racchiudesse un pezzo di codice cioè una cosa che non fa nulla ma fa solo struttura non c'è niente quindi lo script era proprio si leggeva come leggere non mi piace molto lo standard di codifica con gli underscore eccetera però lì basta abituarsi e quindi bello del feed a zero non lo conosco però avendo qualche base pascale l'idea sarebbe come dire l'obiettivo sarebbe quello cioè fare proprio una cosa che non vuol dire che cioè semplice nel senso che si parte da da zero però col fatto di sfruttare quello che da questo mezzo cioè non è che stiamo lì a fare cose semplici magari facciamo anche cose complicate però ci sono tanti componenti ci sono tante cose ci sono secondo me molti strumenti la peculiarità secondo me anche di Defi che ha molti strumenti che una volta capito come si usa sono anche facili da usare ma sono magari poco conosciuti e la cosa bella è che chi utilizza Defi li conosce li utilizza anche in altri linguaggi cioè io non vedo nessuno che ad esempio in C Sharp con Windows Form quindi altro linguaggio altra tecnologia che però ha questa potenzialità era edita ad esempio dei Form cioè Visual Studio ti consente di fare una finestra che tu puoi usare come base per altre finestre non copiando incollando cioè creando una finestra con non so metti i pulsanti ok a nulla in basso li allinei gli dai un titolo gli metti un segnaposto per un'immagine e poi da quella puoi partire ereditandolo cioè creando una nuova che abbia tutti questi elementi e poi vai a fare le personalizzazioni questa è una cosa che in Defi si è sempre fatto in Visual Basics si può fare ma Visual Basics Sharp tutta la parte di .net ad esempio ma nessuno la sfrutta perché secondo me non ci è mai stato abituato dai linguaggi da cui proviene e non ha mai cercato una cosa analoga non ha mai trovato un progetto che faccia che sfrutti questo che in Defi è un po' la base cioè ereditare componenti ereditare classi è praticamente all'ordine del giorno ed è un po' la potenzialità del linguaggio il fatto di darti una base che può essere usata direttamente ma può anche diventare le fondamenta per qualcosa che ci vai a costruire sopra per fare le tue cose custom quindi puntate di Defi spiegate alla nonna sarebbero perfette perché non ho studiato informatica sono autodidatta un po' analfabeta no dai approvo in pieno questo proposito ok quindi questo è se mi hai letto un vecchio libro Jackson DC raccontava di Bill che aveva un magazzino e realizzava un'applicazione e questo potrebbe essere un altro step il discorso è che è molto difficile da fare il fatto di dire produco un'applicazione da zero e con quello spiego tutto perché ci vuole effettivamente un pochino un pochino di cioè devi effettivamente avere un'applicazione dove copri tutto quindi anche le cose perché se uno deve toccare tutti gli argomenti non sempre e a volte l'applicazione che ti viene in mente se è un gestionale o se è un un magazzino o qualcosa del genere è anche magari un qualcosa di noioso cioè nelle ultime live che ho fatto quando ho migrato la testa compare la cucina quindi nelle live tra l'altro volendo ho anche i ho anche gli effetti sonori stasera ma sa che non funzionano quindi vediamo ma funzionato questa è un altro delle cose belle no che stavo dicendo nelle live che ho fatto in passato tipo per far vedere alcune cose di Delphi come il tethering e altre cose se si vanno a vedere a parte che adesso su Twitch pian pianino le cancella tiene solo le clip o le cose però su YouTube si trova tutto tra l'altro ogni tanto vedo che il chat compare in automatico però se mettete i comandi col punto esclamativo YouTube c'è il mio canale quindi li metto sul canale YouTube per fare varie demo ho utilizzato un progetto che potesse avere un qualche tipo di di utilità o di demo minimo ad esempio sul tethering abbiamo visto come veicolare un messaggio da un'applicazione all'altra fare una chat leggere il barcode con un cellulare e trasferirlo direttamente in un'applicazione desktop un'altra cosa che è stata fatta oppure creare gli overlay per per gioco dell'impicato esatto cioè ho cercato di usare ad esempio per gli effetti di Firemonkey che secondo me sono bellissimi quelli che deturpano le immagini o fanno degli effetti speciali inventarsi il gioco che qualcuno ha fatto in live perché ho preso spunto appunto da da una ragazza che seguo che intrattiene quando fa streaming intrattiene le persone con dei giochi che inventa lei quindi anche lì ho preso come spediente un caso reale per costruire qualcosa che potrebbe essere benissimo un'applicazione tranquillamente l'applicazione dei cocktail a me non vengono in mente meno male meno male che vengono in mente a te che sono quello che l'ha fatta non mi ricordo una mazza dei cocktail più altre cose insomma del genere per far capire che magari uno non ha i cocktail a non so i gatti appunto non so il browser l'API che ci dà i gatti i personaggi di Futurama potremmo farlo su qualsiasi cosa però che comunque potrebbe anche essere di per sé un'applicazione reale quindi e comunque con un minimo di mordente altrimenti penso che c'è chi guarda magari si fiacca un pochino se non è una cosa un minimo un minimo accattivante anche per far capire poi lì uno degli obiettivi era anche far capire che ci ci si può fare qualcosa cioè che non è un'applicazione come dire banale cioè è un'applicazione che che ha una sua valenza non può essere commercializzata tranquillamente poi alcune erano un po' delle demo un po' buttate lì altre cioè quella dei cocktail l'avevamo un po' bozzata graficamente non era bellissima però poteva come dire essere tranquillamente un'applicazione mobile reale e ci abbiamo messo veramente veramente pochissimo gioco del implicato era venuto abbastanza bene era venuto abbastanza bene più che altro perché avevamo messo assieme un po' di cose andavamo a recuperare le parole da un API quindi eravamo totalmente agnostici sulle parole che venivano giù e poi c'era la parte di grafica c'era soprattutto pochissimo codice abbiamo scritto pochissimo codice e quindi cioè secondo me il fattore divertimento bisogna che in qualche modo venga fuori perché è un'altra delle cose per cui secondo me è un build your piadina app ecco anche questa è un'idea che già mi intriga quindi mi è già triggerato come si suol dire sto imparando tutti soprattutto dico per sempre sull'argomento twitch che all'inizio non è stato facile perché qui ci sono tutta una serie di termini che io io seguivo delle live no e a un certo punto c'è uno che dice grazie per il follow grazie per il sub e dico ah quindi è abbonato il follow ma vale di più questo o quest'altro poi mentre la gente si abbonava c'è una scritta compare è partito l'hype train che io dico che c'è un train in partenza che roba è cioè c'è un vocabolario che bisogna approfondire e pian pianino si inizia come dire a a capire e a imparare l'hype train vuol solo dire che siccome in tanti facevano gli abbonamenti se sono in tanti a fare un abbonamento c'è una sorta di di momento dove valgono doppi punti e quindi c'è il sito che ti mette in rilievo ti dà un e fa tutte queste cose qui quindi però vabbè poi dicono non flexare che vorrebbe dire flexare tra l'altro si fa fatica veramente a spiegarli in italiano perché io ho dovuto spiegare cosa voleva dire e ho fatto una fatica bestia flexare vuol dire cioè vantarsi è un po' come non so mi metto appunto scrivere il programma vedo che va c'è uno che dice a me non funziona io dico vedi a me va cioè sto flexando cioè mi sto come dire sto facendo vedere i muscoli faccio me ne vanto non so quindi c'è un vocabolario e ti fa sentire enormemente boomer che è un altro dei termini è un altro dei termini aspetta che ho perso un po' la chat comunque l'idea della piadina app mi ricorda un po' quella della pizza che tipicamente propone il product manager di Delphi in questo caso di Cantù che di solito c'è sempre la pizza però anche quello è un motivo cioè tra l'altro anch'io l'ho fatta con Alexa ma perché dopo la trigger no non mi ha sentito per fortuna quella dei cocktail mi ha dato l'idea per realizzare insieme ad un fisico un'applicazione mobile per il dipartimento di fisica questo è interessante quindi che lì bisognerebbe anche un po' magari se viene fuori qualcosa chiaramente se non è una cosa commerciale è vero che c'è lo showcase di un barcadero con tutte le applicazioni che sono sullo sullo store però ricordo sempre che a noi quando diciamo guarda che può fare applicazione mobile noi del fist intendo chi usa delfi tutti chiedono ma quanti ma quante applicazioni ci sono se voi invece dite flutter dart ah vado a vedere c'è nessuno interessa perché ce ne fosse anche una di applicazioni se cioè se il linguaggio ti piace se fa quello che ti interessa ci può essere anche solo la tua che problema è quindi niente questo è il mio disagio che comunque no se venisse fuori una bella applicazione cina potrebbe starci un un case study o qualcosa che adesso non so di cosa si tratta però una cosa che combina gli elementi o anche a modo di gioco può essere chiaramente un un case study da io di fisica ne so tanto come di matematica quindi purtroppo visto che ogni tanto capiti qua Riccione ne so che tu hai detto facciamo un app sulla piadina perché essendo ghiotto di piadine saluto anche Cristian che è arrivato scusate ma ho avuto ospiti inattesi se sono inattesi di solito vabbè indesiderati è peggio quindi inattesi va va bene avevo avevo timore che appunto ho visto che non ti palesavi ho detto adesso comparirà la domanda a trabocchetto visto che questa settimana si è parlato degli helper sul gruppo ha il porta coltelli è quello compare semigratto compare vedi che è il porta coltelli di Masterchef che quindi rimane quindi dovrei dire il porta coltelli di Masterchef vabbè lasciamo perdere questi effetti da compare solo se mi gratto perché c'è l'effetto della camera che poi lo tirerò via perché mi manca sempre un pezzo di testa sembra di avere la testa ammaccata e quindi vabbè queste sono perché non sono come dire chissà cosa come programmatore ma come streamer sono ancora peggio quindi però vabbè non è importante no sono tutte idee carine poi se ce ne fosse una che magari può essere presa in considerazione per fare una live provare anche a fare un progetto più articolato quello potrebbe essere tranquillamente un modo per far vedere io al momento non ho seguito non ho cercato c'è chi ha fatto in live magari un programma completo partendo diciamo di volta in volta andando a puntate facendone un pezzo discorso che diventa un po' difficile capire quando è iniziato quando è finito cioè se qualcuno magari si perde all'inizio di volta in volta è vero ti fa accompagnamento scrivi codice però secondo me il fatto niente domandone dopo 13 ore di C Sharp senza contare i test in Delfi stanotte infatti io mi sono alzato che erano le 3 e mezzo e guardando l'orario c'era la notifica che qualcuno aveva risposto su Facebook sugli helper spero che tu sia stato alzato non per fare quella cosa lì ma l'hai fatta in passante mi faccio cioè quindi tu stai facendo la doccia con me in sotto no dai metti della musica che dopo sarebbe peggio se se noi sentissimo te però te dopo 13 ore di C Sharp e quindi ma guarda che lavorare in C Sharp anch'io durante praticamente tutta la settimana sia per per consulenze che per lavoro su altri progetti particolarmente web dove penso comunque le tecnologie siano un po' ad esempio io utilizzo .net per il web quindi lo trovo più più comodo dal punto di vista del almeno rispetto alle soluzioni che offre Delphi nel senso che su Delphi secondo me ci sono delle per il web delle ottime librerie che però sono più orientate a come dire sviluppare alla Delphi delle applicazioni web mentre io sono più nel come dire nel mercup nell'html quindi lì sono un po' più rigido sono abituato appunto avere il pieno controllo e comunque non il più delle volte però non faccio applicazioni web con javascript mi piace la roba generata dal server quindi almeno mi piace anche javascript e tutto il resto ma trovo che questo perché a volte se non si è attenti fare applicazioni anche con Angular con React si ritrova un po' soprattutto quando vengono gestiti gli errori in situazioni dove tu hai una pagina che si è caricata ha attraversato diversi stati diverse schermate l'indirizzo magari non cambia a meno che non sia un indirizzo locale di una vista che vedi carichi qualcosa non va a buon fine ti ritrovi lì in mezzo non c'hai dati invece un html che viene giù dal server e tutti dicono sì perché con l'applicazione server scambi solo i dati risparmi banda ecco se io dovessi fare twitter lo prenderei in considerazione però un'applicazione web che viene usata da magari su una internet o comunque da un numero relativamente piccolo di utenti che potrebbe anche essere mille cioè non è che secondo me generare l'html lato server è ancora un po' al suo senso magari un jQuery automatizzare qualcosa ma perché è molto più veloce da sviluppare vabbè cosa volevo dire quindi io utilizzo molto anche .NET e per disintossicarsi cioè quindi capisco perfettamente Cristian che dopo 13 ore di C Sharp si mette alla notte a fare uno sviluppo Delphi perché dice aspetta che meno cambio è come non so mangiare sushi tutto il giorno magari ti piace pure però quando la sera quando sei imballato di riso magari ti fai qualcosa di diverso e quindi in realtà sono cioè sono tutte tecnologie bellissime quindi a meno che proprio non fai un'applicazione stranoiosa si usano tutte tranquillamente e ognuno secondo me ha il suo ambito dove deve essere utilizzato quindi assolutamente non siamo qua a dire magari qualcuno è qua a dirlo però il mio intento non è come dire denigrare i linguaggi in sé però portare l'attenzione a un linguaggio che secondo me ne ha relativamente poca e che può fare comunque delle cose e si può anche accompagnare sposare tranquillamente con altri e quindi mentre lavoravo ho indagato la REST Client Library stesso scrivo compilato definizionale compilato add XSA cresce proprio le MSSL chi non ha una licenza nuova deve attaccarsi bisogna vedere qual è il problema bisogna vedere qual è il problema perché so che adesso hanno integrato SSL proprio con le API native non so da che si sciarpa in ambito medicale noia pura e immagino quindi non lo so dipende dal problema perché so che fino a un certo punto la REST magari usava delle librerie tipo OpenSSL eccetera poi sono nate delle API native sia su Android sia su Windows credo e quindi adesso non servono più però non so da che versione sono state messe io sulla REST Client non ho mai avuto problemi particolari anche perché adesso più o meno va tutto in HTTPS quindi non non mi ricordo di aver avuto problemi io cerco di tenere vabbè che poi abbiamo degli applicativi un po' particolari aziendalmente parlando sia poi sui clienti per cui si cerca di rimanere sempre aggiornati ma più che altro perché adesso è un po' più facile quindi cioè le applicazioni che abbiamo con versioni vecchie di Delphi rimangono rimangono lì tipo con Delphi 7 eccetera quelle che come diranno diciamo così quelle che hanno scalinato l'unicode quindi sono da Delphi 2010 in poi si cerca di tenerle aggiornate con dalla 1033 se non ricordo male sì lì bisogna vedere nel dettaglio è vero che poi la REST Client si può utilizzare però si può usare anche qualche alternativa come Indie quella è molto comoda come approccio perché secondo me è fatta abbastanza bene soprattutto con quel REST debugger che vabbè non è al pari di Postman eccetera però col fatto che ti copie i componenti poi io magari li li creo anche a Runtime però li abbiamo usati ad esempio su un data module penso per il famoso gioco dell'impiccato e lì erano stati molto utili perché senza scrivere troppo codice cioè volendo poi vedere cioè puoi chiamare un API a design time prendere i dati in JSON li converti in una tabella quindi te ne freghi anche di fare la come dire la deserializzazione del JSON in una struttura dati li metti in una mem table e li visualizzi e non scrivi neanche una riga di codice quindi per certi versi cioè non è magari ecco su altri linguaggi c'è più rigidità qui si può fare una cosa del genere magari uno si mette come dire qualcuno non l'apprezza però per certi versi se devi fare un prototipo o anche un'applicazione poi alla fine perché non è che praticamente in pochi minuti la porti a casa e questo secondo me è una qualità molto molto interessante di te vi ho fatto scoprire insomnia anche io uso insomnia mi piace di più come soprattutto perché puoi fare vabbè questo ormai lo puoi fare un po' dappertutto perché poi si copia una vicenda lo uso al posto di postman che sembra uno scioglilingua piace anche a me perché mi sono abituato con la sua interfaccia poi hai i vari ambienti i sottoambienti puoi fare delle variabili da valorizzare ad esempio nell'url io creo sempre dev produzione metto tipo delle macro con le doppie graffe puoi puoi mettere dei valori configurabili e che cambiano in base all'ambiente quindi con lo stesso progetto cambi l'api o cambi l'utente o fai cose di questo tipo e ti fa vedere la risposta le tempistiche o ti fa vedere tutto questo lo fa lo fa anche postman però mi piace come organizzato e insomnia penso sia poi di di kong che poi è stata acquistata o acquistato cioè fa parte poi dell'asset di questa azienda che penso che rivenda anche un designer di api roba di per progettare le varie api tipo consuogero altri tipi sia dei tool sia come si chiamano un sistema per il routing dell'api quindi quei sistemi dove tu metti un nome poi in realtà contatti una sorta di proxy che ti ridireziona su una versione su un altro computer adesso non mi viene il termine tecnico almeno che non sia api routing però qualcosa del genere che è un'azienda grossina comunque lo tengono poi volendo si sincronizza col cloud se paghi ovviamente quindi puoi condividere i progetti puoi condividere no c'è una cosa molto molto interessante quindi ricapitolando beh l'idea di Delfia mia nonna direi è piaciuta quindi quella si potrebbe iniziare a pensare è chiaro che magari lì prima va un po' un attimo preparata compatibilmente con le tempistiche perché bisogna un pochino avere anche il tempo e quindi sicuramente si proverà a fare una qualche live in combo così magari si oltre a me così soprattutto chi segue magari un po' come dire fuori dalle community dalla vita di community così conosce qualche altra persona si impara si vede qualche libreria in funzione si vede anche che non abbiamo niente da quel lato da invidiare rispetto a tanti linguaggi a tanti come python o come dove c'è praticamente una pletola di librerie però che a volte sono minuscole perché lì ad esempio con node avete a che fare con una marea di package alcuni dei quali sono magari una funzione sola quindi ci sono un po' delle predisposizioni diverse vedere eventualmente anche delle librerie e capire come si utilizzano quindi direttamente magari dalla dalla viva voce devo scappare ecco ho l'occasione per guardare una marca che mi ha fatto conoscere twitch mi ha fatto conoscere LinkedIn la fortuna è tutta mia come si suol dire come il piacere a tutti voi della chat spero di conoscervi presto un sereno fine anno buon anno anche a te e quindi speriamo nell'anno nuovo anche tu un canale un canale twitch sull'argomento che preferisci tanto poi così veniamo a fare i ride un'altra cosa che ho dovuto imparare ho capito quando li ho visti fare su twitch che magari ne facciamo uno anche noi tra un po' così anche perché sono le le 11 e dopo diventa troppo lunga questa live troppo tediosa grazie auguri anche a te l'anno nuovo vedremo di di spaccare tutto con vabbè lì dopo verrò a imparare perché sono sicuro che nel momento in cui inizierai a approfondire l'argomento e inizierai a lavorarci dopo sono sono io che devo venire subito a copiare delle idee o vedere come sono state fatte certe cose perché da quello che ho visto quando ti hai un'idea già i piatti già faccio fatica i piatti i piatti della cucina quelli che ho visto su instagram e quindi devo imparare anche quelli parto da quelli poi vedi il resto grazie per la presenza altro aspetto questo mi sembra un nome familiare questa è mia sorella che è arrivata a ritardo perché io ho già fatto vedere ho già mostrato in live il mitico viene un po' disegnato male perché c'è il filtro anche se non è verde non so come mai diventi così si vede un po' così il regalo che mi ha fatto il regalo del tappetino con la mascotte del del canale il mitico il mitico gatto che quindi adesso possiamo andare a vedere dopo le live di fasmofobia perché adesso ci siamo quando io non faccio le live sulla programmazione non guardo cioè guardo qualche cosa di programmazione ma vado anche a vedere le live di gente che gioca questo gioco di acchiappa fantasmi che io le guardo perché non riesco a farlo perché tutte le volte che ci provo o è sera perché di giorno si lavora oppure e quindi come si suol dire dalla mia parte mi cago addosso quindi ammiro quelli che ce la fanno perché quando ci provo io come dire ho fretta di scappare e quindi spesso non riesco nel gioco e mi ci devo un po' abituare ma proprio un po' riuscirò a fare anche quello quindi se siete iscritti da poco navigate su Twitch perché sicuramente troverete un sacco di cose interessanti a netto della programmazione quindi DF Mia Nonna queste live in combo che proveremo a sperimentare questo è una cosa che sicuramente proveremo a fare non so se chi è collegato ha delle altre idee che si potrebbero o dei progetti o qualcosa che magari gli interessa non più che altro magari potrebbe essere anche un lavoro di community una cosa su cui si può partecipare in più persone perché non è non è neanche detto che sia una cosa come dire che debba fare necessariamente solo una persona ma potrebbe anche essere portato avanti come come progetto ripeto progetti molto lunghi ho cercato fino ad oggi di non di non propordi perché se qualcuno si perde la prima puntata magari diventa sfiga ti caga buon ordai quindi adesso sperimenterò il ban no scherzo esatto quindi fasmofobia lo vedremo dovremo imparare anche quello prima o poi mi sono perso perso il mio discorso cosa stavo dicendo sì no se avete altre idee di di progetti che si potrebbe vedere tipo il costruttore di piadina allora una cosa che sicuramente volevo ripescare appunto era come argomento il fare le skill con con Amazon e quindi interagire con i dispositivi questa è una cosa che è stata già portata nel in una conferenza qualche qualche anno fa però potrebbe essere interessante riprenderlo perché ci sono ovviamente delle delle modifiche e poi quel fatto che avendo un po' più tempo a disposizione si riesce a vedere meglio perché mi ricordo quando l'ho portato diciamo qualcuno mi aveva fatto delle domande e da lì avevo capito che io spiegando la cosa c'era persone che avevano molte più idee di quante ne ho avute io nell'affrontare l'argomento cioè io l'ho spiegato ma c'è chi già aveva e so che c'è anche un cliente che l'ha utilizzato e ha fatto comunque delle skill per dei dispositivi propri e quindi ha sfruttato come dire la cosa e quindi ci sono degli SDK però anche in defici riesce è una cosa che si riesce a fare tranquillamente qui forse c'è un po' meno cinema perché mi ricordo che a suo tempo avevo avevo dispositivo dal vivo e quindi come dire era un po' più era andata abbastanza bene comunque quindi è un argomento che so che interessava quindi quello potremmo prenderlo se riesco a inventarmi qualcosa per il multitrading parallel library ci sta più che altro legato allo sviluppo di interfacce moderne quindi la questione di cercare più possibile di lasciare che l'applicazione respiri facendo in modo che sulle operazioni lunghe magari blocchiamo l'interfaccia mettiamo dei loader mettiamo questa in realtà potrebbe essere tranquillamente la parte degli argomenti per delfi spiegata mia nonna perché la nonna quando dopo ha iniziato a fare le applicazioni vorrà anche fare le applicazioni responsive soprattutto per il mobile sento un rumore ecco il gatto che esce dal cartone con calma e quindi buongiorno se ne è uscito bello bello dal cartone da qui sta dormendo da almeno 3-4 ore tra un po' ti consegniamo direttamente con prime quindi può essere tranquillamente una cosa vediamo secondo me le cose che saranno più interessanti da sperimentare quanto prima sono vedere le librerie assieme anche perché dopo siccome lì ce ne sono tante può essere un espediente per coinvolgere anche altre persone in maniera più attiva vedere un po' di librerie interessanti anche perché ce n'è bisogno infatti l'argomento RTTI di qualche sera fa era proprio voluto al tirare un po' giù il velo su una serie di cose che secondo me oltre ad essere lo strumento in ogni caso principe per realizzare questo tipo di librerie spesso non viene utilizzato ma in realtà può essere molto utile ed è anche molto facile da usare quindi cerco sempre di cerco un po' di fare da volano su magari l'uso di cose che spesso non si non si approfondiscono ma giusto perché uno non si dà magari non ha il tempo e quindi deve eventualmente produrre un risultato e magari sono cose che si vedono in altri linguaggi quindi però vabbè lì vedremo un po' un pochino quali argomenti trattare quindi intanto partiremo con quello e poi vediamo comunque in collaborazione anche con altri canali so che come ci si è un po' sentiti c'è l'idea di come dire creare un gruppo comune cioè o comunque mettere assieme un po' tutti quelli che producono contenuti su Twitch quindi insomma non è detto che alla fine non nascano poi durante l'anno anche delle collaborazioni con altri che trattano altri temi e che non si riesca comunque a mettere assieme un po' queste cose e fare non so un progetto congiunto mi viene in mente ad esempio una persona che spesso passa di qui ed è una delle persone che ho iniziato a seguire e che ha dato anche spunto per aprire questo canale che è Diana che parla di sviluppatrice front-end che parla spesso di accessibilità e potrebbe essere un argomento interessante da affrontare nel nostro caso per quello che concerne l'accessibilità delle applicazioni mobile quindi anche lì forse fare un crossover una cosa tra i due argomenti potrebbe essere chiaramente una cosa interessante cioè vedere come applicare i concetti di accessibile che generalmente si utilizzano sul web per fare in modo di averlo anche sull'interfaccia ad esempio di un'applicazione mobile perché spesso capita di usare ad esempio dei colori che magari un deltonico non distingue e vede uguali e quindi fruisce lì c'è c'è veramente un mondo ed è un mondo interessante perché ci sono anche un sacco di persone che si trovano in condizioni di difficoltà cioè che devono utilizzare questi mezzi sempre più anche poi legati alla questione della del momento in cui ci troviamo della pandemia eccetera però per motivi svariati sono anche in condizione magari di avere una sorta di limitazione che potrebbe anche essere non necessariamente permanente ma anche temporanea cioè se prendiamo uno che utilizza abitualmente un cellulare con le sue applicazioni e non so ha un problema si fa operare la cataratta cioè magari non vede potrebbe essere che c'è quel mese che non vede quindi già non può uscire già se non può utilizzare anche il cellulare è isolato e quindi il fatto di guidarlo in un certo modo con altri strumenti oltre a quello della vista può essere un espediente per rendere l'applicazione più utilizzabile quindi ci sono ci sono effettivamente dei temi che potrebbero diventare interessanti affrontare anche lì uno dei miei propositi è quello di trovare quanti più collegamenti possibili questo perché è anche più interessante nel senso di community nel senso di stringere poi dei rapporti con queste persone da cui si possono imparare un sacco di cose effettivamente e anche per creare una sorta di filone cioè magari uno che si vuole che approfondisce l'argomento ha così tutti i punti di vista legati a in quel caso il web nel nostro caso potrebbe essere applicazioni desktop e mobile in altri casi potrebbe essere non lo so realizzazione di videogiochi o quello che quello che il canale propone quindi riuscire a fare un po' di commistione è utile anche perché in questo modo si attirano le persone di diverse community e tutto va a vantaggio ovviamente del successo della divulgazione quindi si continua di fatto con i progetti e quindi questa ovviamente è una cosa molto buona mi sono accorto che è finita la musichetta ma natalizia ma ho anche le cuffie quindi non dovrebbe essere difficile quando uno sente ho disabilitato la riproduzione automatica perché l'ultima live Spotify è passato da canzoni royalty free a canzoni commerciali quindi appena caricato su YouTube YouTube se ne è accorto e ha detto te la lascio usare però stai attento che anche su Twitch bisogna stare attenti perché è molto rigido su queste cose Twitch tra l'altro questa settimana ho visto tra le news c'è un protocollo rigido ha iniziato a chiudere dei canali che alcuni ragazzini utilizzavano ad esempio per per farsi incoraggiare diciamo siccome c'è modo di ci sono i bit ci sono c'è modo di come dire dare dei soldi allo streamer e c'è chi incoraggiava gli streamer abbastanza giovani a fare delle cose tipo mi inalo la farina se mi se mi date tot bit che è una sorta di valuta corrente di Twitch oppure se ha 100 abbonamenti mi mi butto con la testa sul muro cose di questo tipo e quindi avendo visto un po' il nascere di queste situazioni segnalate hanno preso provvedimenti e quindi space con te o space con te o space con te comunque ciao sberva vuol dire che è qualcuno che ho inquadrato diciamo del gruppo però dal nick non mi viene in mente niente magari c'è quindi sicuramente qualcuno che mi conosce personalmente perché questo è il mio è il mio nick diciamo alternativo sui forum ne uso un altro anche con un gruppo di amici che ha Alka da Alka Seltzer ma così così vi racconto anche un po' di aneddoti adr andiamo andiamo per indizi successivi invece il nome sberva chiaramente viene dal mio cognome che è stato storpiato però è una storpiatura che piace molto perché dicono che è bello perché quando tu ti vuoi sfogare vuoi dare la colpa a qualcuno e quindi spesso viene associato all'appellativo anche maledetto quindi maledetto sberva e quindi e nel dirlo pare che ci sia questa soddisfazione che ti che ti fa come dire ti solleva ti ti rilassa è un po' come vabbè non faccio paragoni assurdi però e quindi è uno dei dei tanti nick quindi niente non 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 riesco a inquadrarti ma vabbè poi me lo scriverai in se vuoi rimanere in incognito in separata sede dunque qui siamo quasi arrivati alle due ore direi che abbiamo fatto pure troppo cioè non è questa sera non si è fatta molta fatica non abbiamo scritto niente quindi non non abbiamo neanche aperto scritto una riga di codice però direi che nel corso di quest'anno le abbiamo scritte abbastanza almeno qui live ma anche offline quindi speriamo di scriverne un po' anche nell'anno nuovo queste sono un po' le idee che mi erano venute poi vabbè giusto per adesso si dice sempre però chiaramente sul sul canale trovate poi tutti i miei contatti se per caso qualcuno ha bisogno di non so come dire no bisogno no però se ha qualche idea comunque se ne discuterà magari anche su sul gruppo facebook di delfi club italia però magari può essere anche un qualcosa che non è estetamente legato delfi sarebbe poi chiaramente bello allargare un po' il campo però come dire ci sono già persone che ne parlano e anche bene quindi in quel caso io continuo questo filone perché mi sembra comunque che a parte che vengono fuori delle cose abbastanza divertenti e imparo ad usare delle cose che a volte non si ha occasione di usare non si può mai sapere cosa ci può saltare fuori in ogni caso almeno la mia nicchia per così dire molto piccola me ne accontento ma non siamo qui per raggiungere per fare dei guinness ma come dire ce lo accontentiamo e comunque se ovviamente sono live possono essere utili a qualcuno ben venga quindi questo per dire che usate tranquillamente i contatti se avete delle idee da proporre su argomenti da trattare o cose o librerie che vorreste anche vedere perché poi magari me le guardo io se chiaramente nell'ottica di provare a fare le cose in più persone se troviamo l'original creator della libreria allora siamo 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 a posto proviamo a coinvolgerlo come nel caso di iorm quindi dico Maurizio adesso nell'anno nuovo appena passate le feste perché inizialmente ci sarà un pochino da un po' di già di impegni poi so che ho alcun corso da fare quindi sarà un po' però l'ideale sarebbe appunto provare a fare questa live in doppio e io farò finita di non saper usare la libreria di Maurizio cosa che effettivamente non sono in grava di fare e così verrà perfettamente farò finita di non conoscere delfi come effettivamente è in questo modo ci faremo spiegare un attimo come si usa per dire iorm e anche però magari così è un'occasione per vedere come sono state fatte certe scelte nel costruire quella libreria o quelle che eventualmente poi andremo ad analizzare perché ad esempio quando abbiamo parlato di attributi siamo andati a dare un'occhiata ai sorgenti direttamente online di questa libreria e quindi l'intento è anche capire certe scelte per vedere che strumenti sono stati utilizzati e quindi imparare anche a fare delle cose in più con delfi cioè magari io poi la libreria posso scegliere di usarlo meno ma capendo più o meno la potenzialità di qualcosa questo può essere uno spunto magari per qualcuno per creare la propria libreria che fa altre cose e quindi vedere insomma in un caso concreto quali sono i benefit che porta lo strumento sarà un vero piacere quindi così non dovrai fare le slide cinematografiche che sono secondo me nightmare before christmas è stato più difficile più facile da fare rispetto alle slide quelle di git che mi ricordo ancora e quindi sperimenteremo sperimenteremo senz'altro poi dopo vedremo sicuramente come come fare se la cosa viene viene fuori bene come dire domiros buonasera a tutti auguri di buon anno anche a parte di colplay sono passato qualche sera fa buon anno anche a te tra un po' tra un po' è l'ultimo quindi vabbè a mezzanotte direi non ci arriviamo perché andiamo troppo in là abbiamo già parlato abbastanza grazie mille buon anno anche a te adesso faccio anche qui la cosa che io poi mi scordo ma perché sono un frescone io però buona abitudine quando arriva qualcuno fare il lo shout out come si può dire quindi hype train tutti questi termini dico queste cose perché prima c'era una persona collegata che pensa di aprire il canale twitch inizialmente ci sarà una serie di cose che non si capisce non si capisce niente dei termini però pian pianino ci si abitua e secondo me twitch è molto apprezzabile si parla di deathcoming sarà un gioco che io non conosco immagino io a volte io passo sul retro di solito a tarda notte metto in sottofondo il retro gaming perché quando vedo gente che gioca i giochi che è un po' come se giocasse io però siccome ci giocano gli altri io continuo a fare quello che stavo facendo e quindi non come dire non lascio continuo a lavorare però sotto mi rimane la nostalgia e vedo la gente giocare a parte che quando vi sento una sera secondo me ho visto una diretta di aver incontrato persone inimmaginabili esatto una sera ho visto secondo me una diretta di Worms perché ero fuori casa però ero passato e c'era un momento di di confusione e cioè mi faceva ridere perché ho un collega tra l'altro della zona cioè ricordo troppo il modo di di esprimersi di un collega che che appunto fa molto pane a pane al vino al vino e non so c'era stato un paio di cose che mi hanno fatto ridere no ci sono un sacco veramente di persone veramente inimmaginabili ma apprezzabili e quindi che fanno compagnia per cui non solo co di gazzi dovrebbe essere più gaming per cui Worms grande game sì ma era più era più non mi ricordo sì mi sembra fosse Worms c'era tratto uno scenario particolare quindi quindi grazie buon anno anche a te speriamo nel prossimo anno di far esplodere i nostri canali in senso buono nel senso di avere sempre più più persone anche perché comunque fa piacere visto che c'è sempre l'utilità dell'intrattenimento dell'apprendimento e quindi ci sta ci sta quindi speriamo di iniziare l'anno diciamo nel modo migliore possibile poi e anche di proseguirlo possibilmente ma come diceva Pozzetto buone ottime prospettive per il futuro ho speso tutto ma no vabbè e quindi che ci rimane da dire no quindi se ci sono idee aggiuntive i miei contatti sono sempre lì quindi mi viene in mente l'ultima slide che ho fatto l'ultima volta che ho fatto una conferenza che c'era una slide con i contatti dove c'era twitch telegram instagram facebook linkedin a un certo punto ho dovuto dire vedete che sui social sono defilato c'era almeno non so quanti profili poi in realtà non ne gestisco neanche uno però non dovrebbe essere difficile come dire beccarmi in qualche modo perché appunto adesso arriva anche streamlabs con con il canale telegram quello degli aggiornamenti c'è sopra le notifiche quindi lì non arriva non arriva nient'altro no direi che quindi abbiamo detto tutto questa era proprio una live così un po informale giusto per salutarci per provare a mettere in campo un po di un po di idee anche se poi chiaramente la sperimentazione viene come si dice l'appetito viene mangiando io ne so qualcosa sorvogliamo ma così raccogliere qualche idea e direi che qualcuna è uscita vedo che l'idea di DeFi da Zero piace abbastanza l'idea delle librerie quindi proveremo a seguire questa strada in modo da magari ci vengono fuori anzi sicuramente vengono fuori delle cose delle cose interessanti quindi ci proveremo detto questo che dire spero che stiate tutti bene esatto buon inizio del 2022 direi auguri a tutti quanti speriamo di schivarci per chi è riuscito a schivarselo ancora e è incappato nel maledetto Omicron che sta facendo veramente profitto per ringraziarti grazie a voi che comunque siete alcuni sono tutti i giovedì ho saltato un paio di volte ma alcuni ci sono praticamente sempre quindi è chiaro che se come dire non devo fare non faccio affari tuoi su Rai 1 quindi come dire non è che inseguo i come dire milioni di spettatori però è chiaro che se avessi fatto sempre live con nessuno collegato mi sarei già come dire ah ma c'è anche Giancarlo cosa fai lì nell'ombra nell'ombra che esci solo per i saluti finali cosa fai magari sei arrivato adesso però e quindi può anche essere quindi no per cui invece con un po' di persone diciamo alcune ci sono ci sono sempre altre quando possono con tutti i loro impegni che sicuramente possono avere perché io da questo lato anche io mi ritengo privilegiato proprio per una condizione di status di poterlo fare quindi mi fa piacere ovviamente avervi sempre e chiacchierare mitico presidente e quindi esatto chiamiamolo con la P maiuscola esatto anche lì sul gruppo il patron del gruppo del Ficlub Italia quindi Her Wolfen buon 2022 è una live barbosa è una live barbosa non la riguardare no comunque direi che ci facciamo tutti gli auguri speriamo nel 2022 vedremo di fare un sacco di cose qualcosina di sperimentare sempre di più poi vediamo magari alla fine come dire ci viene fuori sicuramente qualcosa di qualcosa di interessante giusto per vedere ma c'è gente collegata visto che è nata a prassi fare di Twitch fare i ride come si suol dire che sembrano sottovalutati ma molti mi hanno conosciuto grazie a dei ride quindi di solito cerco di beccare come dire qualcosa in tema in argomento sulla programmazione è l'ultima volta che ho fatto il ride su chi c'era su uno che non se ne è neanche accorto quindi aspetti Doom in FireMonkey ah ok se io ci sto ci sto già lavorando ti ho detto ho fatto Writeline Doom benvenuto su Doom quindi l'applicazione console c'è già quindi però effettivamente è un campo che dovremmo esplorare ma lì ci vorrebbero gli esperti delle tre dimensioni quindi io già faccio fatica con due c'è chi vorrebbe fare la quarta quindi non sono purtroppo però se ci fosse qualcuno che capisce qualcosa di 3D una cosa che effettivamente mi piacerebbe come dire esplorare è il 3D però non usato vabbè lasciamo Doom però non necessariamente legato al vedere come dire un ambiente tridimensionale però quelle piccole funzionalità tridimensionali ad esempio avere delle cose bidimensionali come delle carte o un carosello che però ruotano e occupano praticamente lo stesso spazio a livello cioè vedi vedi chiaramente che ce n'è una più davanti e una che sta dietro quindi usare il 3D non per creare un ambiente virtuale ma per dare per sfruttare le tre dimensioni in modo che tutto ciò che è bidimensionale comunque abbia in ogni caso una profondità cioè lì ci sono effettivamente molti tipi di utilizzi che si possono fare come il carosello o il carosello inteso come non so metto delle carte in sequenza quella quella davanti magari è leggermente inclinata quindi vedo quella dietro magari c'è una semi trasparenza cioè riuscire a sfruttare il tridimensionale per avere delle cose in 2D che però stanno su distanze diverse sull'asse Z per così dire e quindi nello stesso spazio riesco a vedere più cose Z order non mi veniva il termine non mi veniva la parola comunque quello però con la possibilità di vedere sia l'uno che l'altro quindi alcuni effetti che si utilizzano una carta che ruota una cosa quindi molto semplici però come se lo schermo fosse più spesso ecco come dire non so come il cellulare quando vedi i processi che puoi sfogliarli e li vedi come carte su android non so quelle cose lì forse da quel lato lì qualcosina si potrebbe riuscire a ottenere una rubrica da sfogliare invece c'è doom purtroppo scene mesh tutte quelle cose lì come dire dovrei trovare della bibliografia se avessi qualcosa da da studiarmi però sì al momento la mia conoscenza è pressoché zero quindi purtroppo sono molto molto limitato da quel punto di vista quindi non aiuto che succede ok niente direi che gli auguri ce li siamo fatti le idee le abbiamo discusse per non tardiarvi oltre adesso passo al scelgo un canale anche se stasera non è che ci sia molto a livello di programmazione di solito c'è molta più gente c'è un sacco di gente ma nessuno che nessuno che programma e quindi però qui stai facendo un CGI e poi forse una volta mi è anche passato con un sacco di linguaggi quindi andrò a fare un ride su un canale che potrebbe interessare doom4delphi online da qualche anno ah si a questa mi risulta nuova cado dalle nubi come diceva il mitico non ce l'ho presente quindi non ce l'ho proprio presente quindi adesso andrò a cercare subito quindi e poi venirebbe approfondire quel castle game engine che gira da un po' ma l'avevo detto anche prima vedremo no ma ce ne sarebbe di roba da vedere che la metà basta quindi allora boh scelgo porting di doom star trek quello basic anni 80 ah tutte queste idee teniamole da conto che poi ne parliamo ne discutiamo assieme così così vediamo come si potrebbe fare allora via preparo il il ride a questo utente che sta programmando delle CGI così so che una volta mi ha mi ha fatto visita e mi ha chiesto qualcosa così adesso lo vado a scegliere così avvio il ride e niente che dire di nuovo grazie a tutti anche per la presenza di stasera nonostante l'assenza totale di argomenti tecnici e la noiosità di questa live però ci stava almeno giusto per salutarsi poi c'è stata la chat abbastanza animata quindi tutto sommato quindi grazie di nuovo a tutti e direi che ci rivediamo un buon anno un buon 2022 ci rivediamo nel nuovo anno con se riusciamo un po' di novità vediamo di fare qualcosa di nuovo di interessante per questo maledetto canale e quindi di nuovo un saluto a tutti auguri a tutti buon anno e direi alla prossima non vi scollegate così vedete un canale dove si programma si programma duro quindi da quello che ho visto un paio di volte quindi anche lì non non dovrebbe deludervi direi grazie di nuovo e alla prossima ciao a tutti buon anno a presto a presto a presto Grazie a tutti.